Sono Paola Capoferro, giornalista di Digital4 e il 28 marzo dalle 15 alle 16 modererò il webinar Digitalizzazione PMI e PNRR, da esigenza opportunità per una crescita sostenibile. Il webinar sarà un'occasione unica perché per la prima volta saranno presentati i risultati della ricerca di Digital Innovation e Digital Transformation nelle PMI italiane condotta dagli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano e da Microsoft Italia. Il professor Mariano Corso, cofondatore e membro della Commissione Scientifica degli Osservatori e Luba Manolova, direttore della divisione Microsoft 365, presenteranno e commenteranno infatti i risultati della ricerca. Sarà quindi l'occasione per scoprire qual è il livello di maturità digitale delle PMI che ruolo hanno oggi i dati e come si possono sfruttare al meglio, capiremo quale opportunità nascono con il PNRR e in che modo le PMI si possono approcciare ai nuovi modelli di lavoro ibrido, senza dimenticarsi però l'importanza che ha anche il tema della Cyber Security. Vi aspetto il 28 marzo, a presto!